Come sapete, la Onus Gulliver non è mai chiusa durante il periodo brutto del Covid, impiandosi in città con la distribuzione gratuita di beni alle famiglie bisognose. Finito questa pausa di questo periodo, ci stiamo mettendo in forza per riempire i magazzini per quest'autunno che un po' tutti quanti pensano sia un grigio. Quindi il nostro invito alle famiglie pesaresi di conferire in Vieto Scana 111, dove c'è il nostro magazzino più grande, di venire a conferire abiti, cibo e oggettistica. Queste cose poi saranno risistemate e ripulite e messe a disposizione per le famiglie bisognose. La novità, la cosa che abbiamo chiesto come aiuto alla Regione, è il bando per il servizio civile regionale. Cos'è questo bando? È un bando per 10 posti, per 10 ragazzi o ragazzi dai 18 ai 28 anni. Quindi ragazzi che non lavorano in uno studio, sono fermi in attesa di qualcosa, il mio invito è quello di presentarsi presso la nostra sede, far domanda, perché secondo noi è una buona possibilità, da una parte l'aiuto sociale delle famiglie, perché i ragazzi saranno impiegati in attività sociali di magazzino del cibo, di magazzino del mobilio e dell'abbigliamento per le famiglie bisognose. E comunque per 12 mesi saranno con noi, con uno stipendio di 450 euro, un orario tipo part-time, quindi pensiamo che sia una buona opportunità per chi non lavora ed è un attimo fermo, quindi dai 18 ai 28 anni, ed è un attimo possibilità per conoscere un'associazione di volontari attiva in città che fa del bene le famiglie bisognose. Lunedì 21 è scala del bando, quindi fino a lunedì mattina è possibile presentarlo tramite una piattaforma digitale, comunque il nostro invito è venire qui direttamente, fisicamente in sede via Toscana, ci sono le nostre ragazze volontari che aiuteranno i ragazzi ad immettere la domanda nel sistema regionale e da poter partecipare a questo bando, che ricordiamo è per 12 mesi, per 450 euro mensili, con un orario part-time.